Grazie Presidente, capisco che l'opposizione deve fare il loro lavoro e sottolineare una cosa che è importante, la presenza di un assessore. Però qui il tema è diverso, il tema è entrare nel merito delle raccolte delle utenze non domestiche. In un'azienda, soprattutto un'azienda delle dimensioni di Ama, non esiste solo l'amministratore delegato, premesso che oggi c'è un amministratore delegato ad interim, il che non vuol dire che sia una persona meno capace dell'amministratore delegato che era stato incaricato. È vero, la raccolta di utenze non domestiche non è partita nel migliore dei modi e subito la Commissione Ambiente e la Commissione Commercio hanno iniziato a lavorare per recuperare tutta quella serie di problematiche che le associazioni dei commercianti e i cittadini lamentavano e nelle numerose commissioni che abbiamo tenuto abbiamo approfondito queste problematiche e stiamo agendo per ricondurre al rispetto del contratto dedicato tutti i vincitori di bando prestatori. È un lavoro al quale possono partecipare anche le opposizioni, cioè se vengono e iniziano ad aiutarci con le segnalazioni dei cittadini in merito ai disservizi o alle mancate attivazioni, ben vengono, noi non ne abbiamo ricevute ad oggi. Anche questo è uno dei modi in cui le opposizioni possono cooperare, hanno sempre detto di volerlo fare ma io non ne ho assolutamente evidenza. Veniamo al caso specifico della raccolta per quello che dice la mozione. La mozione semplicemente prende atto, in questo caso particolare, del fatto che il numero verde che era stato dato non è efficace. Abbiamo chiesto un numero verde dedicato, abbiamo chiesto un'app, un'app, un'app da dare ai commercianti che ci possano segnalare eventuali disservizi perché oggi AMA deve esercitare una funzione di controllo al di là di quella che gli stessi prestatori esercitano ma non può effettuarla a tappeto. Questa app sarebbe fondamentale nel coadiuvare AMA nei controlli necessari per il rispetto dei contratti. Quindi non vedo cosa ci sia di non percorribile in questa mozione sacrosanta che ogni persona di buon senso e buona volontà dovrebbe votare favorevolmente. Grazie.